Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, l'amministratore del canale Commedia All'Italiana. Due anni fa, poco meno, usciva nelle sale italiane il film della Reunion di Boldi e De Sica. Amici come prima. Questo film qui, diretto dallo stesso Christian, con la collaborazione non accreditata del figlio Brando, un film che ho amato follemente, molto divertente ma anche toccante in alcuni momenti, quasi emozionante. Il tutto molto emozionante per noi fan, ma anche il film stesso in alcuni momenti in qualche modo toccante. Un film fatto benissimo, forse non avrebbero mai potuto fare qualcosa di migliore, ed era il film della Reunion. Dopo 13 anni dal loro ultimo film, lo stesso film che 15 anni fa era l'ultima collaborazione Boldi e De Sica e Neri Parenti, prima del film di cui sto per parlarvi, Natale a Miami. Uno dei cinepanettoni più divertenti, uno dei più fortunati, un grandissimo incasso nelle sale, poi la separazione che sia stata un litigio o una semplice decisione di marketing, una decisione anche studiata, in ogni caso era quello, l'ultimo film diretto da Neri Parenti, interpretato da Boldi e De Sica. Nel 2020, il 13 dicembre, esce su tutte le piattaforme digitali a noleggio e acquisto, quindi Netflix no, perché me l'hanno chiesto in molti, lì non devi noleggiare o acquistare i film, se sei abbonato ce l'hai direttamente, quindi vi parlo di Sky prima fila, Amazon Prime Video, dove l'ho noleggiato io stamattina, infatti rivedrò stasera il film perché avendolo non ho noleggiato, approfitto, delle 48 ore disponibili, e Cili, Apple TV, YouTube, veramente tutte le piattaforme digitali dove è consentito noleggiare o acquistare i film. Esce in vacanza su Marte di Neri Parenti, che torna alla regia dopo tre anni da Natale da chef, Massimo torna alla recitazione cinematografica due anni dopo, Amici come prima, Cristian torna dopo qualche mese, quasi un anno, dalla mia banda suona il pop di Fausto Brizzi. Amici come prima era un film per tutti, un film sicuramente dedicato a noi fan, anche, vi ricorderete, no, quelle scenette finali molto trash, anche le papere dedicate agli amanti della coppia, ma era un film che voleva piacere, e secondo me ci riusciva, un po' a tutti. Voleva essere una commedia per tutti, più sofisticata, più garbata, De Sica l'ha definita una commedia romantica, per certi versi posso essere d'accordo perché l'amicizia è il romanticismo in qualche modo, ed è un film che infatti piacque anche a detrattori molto celebri anche della coppia, sul web, ma anche per quanto riguarda la critica più in generale, critici anche più seri che scrivono magari sui giornali, vecchio stampo, grandi anche loro, magari detrattori della coppia, questo film lo hanno apprezzato. In Vacanza su Marte è un film diverso, è un film come io, ho detto anche a tanti miei amici con i quali ho parlato di questo film prima di vederlo, e non si può mai dire nulla prima di vedere i film, per quanto riguarda l'idea, la locandina, il trailer, anche tutta quest'estate, si capiva un film dedicato esclusivamente soltanto ai grandi fan storici della coppia Boldi e De Sica, quei fan che si sono emozionati due anni fa ritrovando Boldi e De Sica sul grande schermo, amici come prima nel film, amici come prima, direi più che altro coppia come prima perché poi insomma pare che non abbiano mai litigato, io a breve leggerò il libro di Neri Parenti, che ho lì da qualche parte, Due Palle di Natale, dove pare che Neri abbia anche spiegato cosa è realmente accaduto durante le vacanze, leggerò il libro e forse ve ne parlerò anche. Quindi è un film dedicato soltanto a noi, non credo che i detrattori della coppia, o comunque coloro che non l'hanno mai apprezzata, possano trovare qualcosa di interessante nel film In Vacanza su Marte, è un film molto volgare, è un film molto diretto nella sua comicità, è un film che omaggia e cita tantissimo i più celebri film della coppia, da paparazzi a Bodigars, passando per Natale a Rio, dove non c'era Boldi ma è un cinematorentone celeberrimo, Natale a Miami, Natale in crociera, ci sono battute storiche che vengono riprese, lasciamo perdere, guardi, lasciamo perdere, oh la madonna, oppure Boldi in una scena dice ma cosa ci faccio io ai vecchietti? Cioè cosa ci faccio io ai vecchietti? Boh, alle vecchiette, boh, ci ricordiamo che Boldi spesso nei suoi film utilizzava questa frase ma cosa ci faccio io alle donne? Boh! E ci sono tantissime scene che ci riportano a delle emozioni e alle tantissime risate che nel passato ci hanno regalato Boldi e De Sica. La storia è molto semplice, ma nella sua semplicità riesce a essere originale per quanto riguarda l'ambientazione. In qualche modo Boldi e De Sica fanno le stesse cose che facevano fino a 15 anni fa insieme, non in amici come prima, ma invece di farle per il mondo, magari ad Amsterdam, in Egitto, in India, a Gstad, a Miami, o ancora prima ad Aspen o a St. Moritz, lo fanno, o a Cortina magari, lo fanno su Marte. È una destinazione particolare, ma è comunque una destinazione nella quale Boldi e De Sica invecchiati fanno le stesse cose che facevano prima. Quindi a me di per sé l'idea inizialmente non ispirava, perché avrei gradito molto di più un film casereccio, magari un ritorno a Cortina, immagino però quest'estate con la situazione Covid e l'epidemia, immagino che non sarebbe stato facile se avessero pensato a questa idea. Quindi capisco e condivido in qualche modo la location particolare che è stata riprodotta, ecco, ricostruita, partiamo da questo presupposto, secondo me molto bene, grazie a degli ottimi effetti speciali e a questa nuova tecnica utilizzata per la prima volta in Italia nel film. Ottima tecnica, ottimi effetti speciali, la regia di Parenti che negli ultimi anni ha cominciato un po' a deludermi, perché io credo che Neri Parenti sia sempre stato anche tecnicamente un bravo regista. Da Maturi che segno sei ho cominciato a notare qualche difettuccio nelle sue regie, un po' troppo statiche, un po' troppo banali. Qui ci sono delle riprese che non ho tanto capito, anche le riprese dall'alto che vediamo di Marte sono degli espedienti da fiction di basso livello, quindi non l'ho tanto capito. Così come qualche zoom inspiegabile di alcuni dettagli che non c'entrano nulla poi con quello che la scena sta per rappresentare. Quindi la regia parentiana in questo caso non l'ho trovata, quella che ricordo che mi ha tanto divertito, perché la regia è sempre la base dalla quale si parte, in tanti storici cinepanettoni. Tralasciando il lato tecnico, Fabio Sinceri si chiama Christian De Sica, anche il cognome, che è una contrapposizione di quello che poi è il personaggio. Fabio De Luigi in primis è stato protagonista di tanti personaggi che avevano un cognome totalmente opposto al loro modo di essere. Fabio Speranza, Speranza lei che in Natale a Rio De Luigi la speranza la perdeva quasi per tutto il film. Filippo Vessato invece in Natale a New York era perfettamente, rispecchiava quello che lui in realtà era nel film rispetto al personaggio di Claudio Bisio. Quindi a parte questo, Fabio Ciulla De Sica, Ciulla mi ciulla l'aereo, vi ricorderete, in Natale sul Nilo. Fabio Sinceri è un uomo, come sempre, abbastanza mascalzone, è sposato ma è scappato, ha un figlio con Paola Minaccioni che ha lasciato addolorata, poi lei si è trovata un altro uomo, Simone Colombari, che è un caratterista che io apprezzo tantissimo, invece il figlio Giulio è interpretato da Alessandro Bisegna quando ha 18 anni. Siamo nel 2030, ragazzi, partiamo da questo presupposto. Siamo nel 2030, in un futuro inverosimile, ma tralasciamo questa cosa, mi ha un po' dato fastidio, vengono citati, per esempio, dei cantanti tipo Tommaso Paradiso o Calcutta, che nel 2030 magari non saranno più di moda, anche perché sono dei bravi artisti, io adoro Tommaso Paradiso, e quindi non sono artisti, sono artisti che rimangono, ma che non fanno parte di quelle mode del momento, quindi avrebbero potuto magari inventarsi qualche nome, non so, di qualche artista della nuova generazione che magari nel 2030 farà successo, sarebbe stato ancora più sbagliato se avessero citato, non so, Sfera e Basta o Gali o gli artisti, anche Trap di oggi, però vabbè, a parte questo è un futuro che probabilmente non ci sarà, spero che non sia quello che il film racconta poi, è una Marte nel 2030 in cui succede tutto quello che succede anche nella realtà di oggi. Per cui, vi dicevo, siamo nel 2030, a 18 anni Giulio è interpretato da Alessandro Bisegna, mentre poi succederà qualcosa. Perché? Perché Fabio è però, ha una compagna interpretata da Lucia Mascino, con la quale vorrebbe sposarsi, lei poi viene spronata a sposarsi anche dalla madre, scassa palla, interpretata da Milena Vukotic, che però è una donna in continua evoluzione, ancora va a caccia, in ricerca uomini con i quali passare magari un'avventura amorosa, e con la quale De Sica se la prende continuamente. Le offese di De Sica, la povera Milena, grandissima, sono anche un po' esagerate, ecco detto fra noi, ma sempre divertenti, e quindi De Sica si rende conto che su Marte non esiste alcuna giurisdizione, e allora si può andare su Marte per celebrare questo matrimonio, senza che nessuno si accorga che in realtà Christian, Fabio Sinceri, è già sposato con un'altra donna, che dovrebbe restare all'oscuro di tutto. Ma cosa accade? Che su Marte si svolge anche una storia parallela, interpretata da Herbert Ballerina, Francesco Bruni, Fiammetta Cicogna, e Denise Tantucci, che è la fidanzata di Giulio. Dunque Denise interpreta una ragazza che di lavoro cerca di scovare le fake news, le coppie false, magari che fanno successo sul web. Bruni e la Cicogna interpretano una coppia da 20 milioni di followers e milioni e milioni di visualizzazioni sul web, che secondo lei è una coppia finta. Per cui loro andranno su Marte con il loro manager ballerina, attore che io non apprezzo mai, ma che qui mi è piaciuto un po' più del solito, seppur secondo me continui a recitare in un modo che a me non piace, quello non è recitare, però qualche scenetta simpatica c'è anche con il buon Herbert, e quindi andrà alla loro ricerca. Paradossalmente, attraverso questo espediente, Giulio riuscirà a trovare il padre, che tanto ricerca, 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 il padre sta andando su Marte, quindi lo segue, e una volta che Fabio si ritrova tra le scatole, immaginatevi De Sica che si ritrova con un piano totalmente scompigliato dell'arrivo del figlio, sapendo che il figlio è un appassionato di fantascienza, decide di organizzargli una spedizione nello spazio. Accadrà qualcosa nello spazio. Il figlio verrà risucchiato da un buco nero e tornerà indietro nelle vesti, nei panni di un vecchietto andando avanti di 50 anni. Quindi Christian, Fabio, chiamiamolo col nome del personaggio, Fabio Sinceri, bugiardo, contraposizione, si ritroverà di fronte al figlio vecchio, più vecchio di lui, Massimo Boldi. Allora, da qui parte effettivamente la storia che il film ci vuole raccontare. Parallelamente, una storia che si intreccia con il manager di questa coppia che fa le sue cosette, niente assolutamente di eclatante, anzi, non mi è piaciuto per niente l'episodio parallelo, se non per una cosa che devo dire, devo sottolineare la bravura di Francesco Bruni al terzo film consecutivo con Christian, dopo Amici come Primo e Sono Solo Fantasmi. Qui parla con un accento toscano che non è suo e lo fa benissimo ed è un bravo attore. Ballerina, meno peggio del solido, Fiammetta Cicogna per me insopportabile, Denis Santucci, bravina, Alessandro Bisegna male, e davvero niente di che è veramente un episodio che non sta in piedi per me dall'inizio alla fine. Poi, invece, su Marte appunto De Sica si ritrova con Boldi, suo figlio, e da lì inizieranno tantissime avventure, avventure comiche che magari tanti anni fa Christian e Massimo affrontavano sul Nilo, in India, a Miami, le affrontano su Marte, in una Marte ben ricostruita, ripeto, e ci sono tantissime scenette comiche che se siete fan del genere sicuramente vi divertiranno. C'è una scena a letto, non vi spoilero nulla, in cui io, veramente, mi sono ammazzato dalle risate, vuol dire di sì che sono bravissimi. Quindi in tante scene vi divertirete se siete fan, se non siete fan, non lo dovete vedere il film perché vi farà venire il vomito peggio di Natale in India che è l'apoteosi del trash e della comicità basata sui peti e sul sesso. Come anche Natale a Miami che ha una comicità sessuale, una volgarità sessuale incredibile. Mi sono sinceramente divertito in tante scene, poi sono affiancati da buoni attori, Paola Minaccioni, ma una bravissima comica, una bravissima attrice, Lucia Mascino, e a proposito di questo vi invito ragazzi, come dico sempre, a recuperare Froile in una fiaba d'inverno di Caterina Carone, film che non ha visto nessuno, ma che quattro anni fa usciva anche nelle sale, una coppia dolcissima, quella di Sica Mascino, un film, secondo me, che trova la migliore interpretazione di Christian, molto delicato, una commedia drammatica, sentimentale, da non perdere, sull'amicizia però, anche lì, quindi recuperatela assolutamente, credo si trovi anche su Rayplay, se non sbaglio. Per cui, sono affiancati anche da breve attori, una grandissima Milena Vogodic, lo stesso Simone Colombari, bravo caratterista. Christian è straordinario, in forma smagliante, fa morire dalle risate, è energico, è carismatico, è scatenato, insulta tutti, è proprio, De Sica è assolutamente di alto livello. Massimo è stanco, Massimo Boldi è stanco, in Amici come prima era rinato, dopo alcune interpretazioni veramente sottotono, da Maturi che segno sei, a Matrimoni al Sud, un Natale al Sud, non ne parliamo proprio, un film veramente brutto, Natale da Chef, in Amici come prima era rinato, qui Massimo è stanco, sembra quasi che a volte non c'è la faccia, a me fa anche ridere perché lo amo, è un comico che mi ha sempre divertito con la sua comicità fatta di smorfi, di facce, di suoni, di piccole battutine, qui non va, e quindi io non ho trovato la coppia, attenzione al termine, la coppia Boldi-De Sica, ho trovato Boldi e De Sica insieme, ma non ho trovato la coppia comica, affiatata, con l'intesa, con la complicità, Boldi-De Sica come invece era successo, meravigliosamente in Amici come prima. Questo è il problema del film, non sono una coppia affiatata, però, nonostante questo, è un film che io non posso bocciare, perché da grande fan della coppia mi sono sinceramente divertito, in tante scene, e l'episodio parallelo non è effettivamente brillante, ma loro mi hanno comunque fatto divertire, più singolarmente che insieme, De Sica, ripeto, De Sica in ogni scena, Massimo in alcuni momenti, e devo dire che c'è una scena leggermente più seria del film, se non sbaglio, tra Boldi e Denis Tantucci, in cui Massimo diventa più serio e dimostra che se facesse soltanto film drammatici, se l'avesse fatti anche magari da qualche anno a questa parte, beh, sarebbe veramente un attore straordinario, perché ha un volto molto serio e drammatico, nella comicità Boldi, secondo me, non riesce più a dare meglio di sé, non riesce più a sfondare, e l'ho trovato molto deludente, invece, amici come prima, era tutta un'altra storia, per cui, è un film che mi ha divertito, che non boccio, anzi, promuovo, ma lo faccio con tanta malinconia, per come ho visto la coppia, con un po' di rammarico, anche per l'episodio parallelo, che comunque non mi ispirava già di per sé, e, e ripeto, non sarebbe stato meglio, ok, non si poteva andare a cortina, i viaggi erano difficili da fare, ma fare una cosa semplice, a casa e reccia, anche trovare Boldi e De Sica molto più semplici di quelli che in realtà non sono, in questo film, mi sono scritto tante citazioni, che voglio leggermente, un attimo, brevemente citarvi, c'è anche Taio Yamanouchi, che interpretava Kamuro Otomo in Bodyguard Squadra del Corpo, quant'antipatica questa, guarda, diceva De Sica, a Taio, ma, per esempio, ragazzi, ho fatto una crasi, a Rio, oppure, una scena dell'anello, un anello che va espulso, in qualche modo, Natale a New York, Natale in Sud Africa, in ginocchio di Sica, Elena, Natale a Miami, Natale in Crociera, aiutatemi, quindi figuratevi, oppure, ecco, Puppa, che vediamo anche nel trailer, ma Puppa a me non fa ridere, come battuta, come stile, no, una frase priva di senso, Puppa, però cos'è che mi piace? Il riferimento a Vacanze di Natale 2000, la scena della spesa in Natale dei Magistris, anch'io c'ho un ciuffone che sembra un nero per caso, che si toccavano le parti basse lì, sinceramente, credo che sia stata omaggiata molto bene, citata molto bene quella scena, per cui, tante, tantissime citazioni, di sì che si deve scendere sempre a dei pantaloni, e sembra che faccia giù, come faceva in Christmas in Love, dovendo si scendere un testicolo, per cui, è un film che mi ha anche divertito, e ho trovato tante belle citazioni, questa recensione è durata tantissimo rispetto al soldo, ma evidentemente, avevo tante, tante cose da dire, se siete fan, non potete perderlo, magari vi farà impazzire, e me lo auguro, vi deluderà, e nel caso mi dispiace, perché, mi dispiacerebbe, perché anche a me ha deluso, sotto tanti punti di vista, ma, ci sono anche degli aspetti, che sinceramente, mi hanno convinto, anche se si tratta di una sufficienza stentata, sono comunque contento, e lo rivedrò con grande piacere, se non siete fan, a meno che non vi serva per sfogarvi, per sfogare la vostra frustrazione, su questi film, non lo vedete, perché non vi serve a niente, tanto è delicato a noi, che voi lo vedete a fan. Ciao a tutti, e sempre viva il cinema italiano!